Buon pomeriggio da Sicilia 24, nuova edizione di Spazio Notizia che apriamo parlando di Cronaca con una prima news da Catania non sopportava la fine della relazione per questo perseguitava l'ex fidanzata ma anche la famiglia di lei ovviamente è stato arrestato. Vediamo il servizio. Nella mattinata di ieri una donna ha contattato la sala operativa chiedendo un intervento della polizia per la presenza al di fuori della sua abitazione di una persona violenta e molesta. La volante giunta sul posto ha individuato la persona segnalata intenta a colpire violentemente la porta dell'abitazione della donna. Gli agenti hanno invitato l'uomo a calmarsi e a fornire i propri documenti ottenendo un secco rifiuto con il soggetto che continuava a mantenere un atteggiamento spocchioso e violento ingaggiando anche una colluttazione con gli agenti che sono poi riusciti a fermarlo. Riportata la situazione alla calma si è appreso che le ire del giovane erano da ricondurre alla fine della relazione con la figlia della donna che aveva chiesto aiuto alla polizia. Nel corso del tempo l'uomo aveva posto in essere delle condotte persecutorie nei confronti dell'ex fidanzata e della sua famiglia, inducendola perfino ad allontanarsi per più giorni dalla sua abitazione a causa proprio delle condotte vessatorie e persecutorie poste in essere ai loro danni. Anche i condomini hanno confermato i fatti sostenendo che lo stesso, soprattutto nell'ultimo mese, si presentava ogni giorno e per più volte sotto casa della giovane, recando non pochi fastidi e disturbi. Pertanto è stato tratto in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per atti persecutori, tentata violazione di domicilio e rifiuto di fornire le proprie generalità. Il soggetto è stato poi sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Finti ticket per parcheggiare l'auto, un ausiliare del traffico è stato arrestato per truffa dai carabinieri di Trapani. I carabinieri di Trapani hanno tratto in arresto per truffa, resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi o d'oggetti atti a offendere, un trapanese di 46 anni ausiliare del traffico di professione. Secondo i militari, allertati dai colleghi che liberi dal servizio avevano deciso di parcheggiare l'auto a Eri Cevetta, l'uomo avrebbe architettato in viale Porta Spada un ingegnoso sistema per truffare gli ignari turisti. Il 46enne si sarebbe appostato in una zona priva di spazi dedicati alla sosta delle auto, convincendo gli automobilisti a pagare in debite somme di denaro per parcheggiare. Aveva con sé anche una piccola stampante bluetooth per rilasciare apposita ricevuta del versamento da apporre sul parabrezza della vettura. Un piano criminoso apparentemente ben studiato, l'uomo tuttavia non poteva immaginare che quei due turisti che avevano appena parcheggiato l'auto erano carabinieri. I militari, sebbene liberi dal servizio, hanno subito capito quello che stava accadendo e sono intervenuti. Il truffatore ha provato a scappare anche spintonando gli operanti, ma è stato subito bloccato dagli uomini dell'arma. L'uomo, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di due coltelli di genere dietato e della somma contante di oltre 50 euro, presumibilmente provento della truffa. E stamane si sono svolti i funerali del piccolo Andrea Mirabile, il bimbo di sette anni morto lo scorso 2 luglio a Shalman Sheikh mentre era in vacanza con i genitori. I funerali si sono celebrati a Palermo nella chiesa di San Basilio, una folla composta estordita dal dolore mamma e papà vicini alla bara bianca del figlio. L'abbraccio del sindaco Roberto Lagalla visibilmente commosso, una tragedia che resta ancora senza una spiegazione, ma che ha provocato lo sgomento di tutti coloro che conoscevano i genitori Antonio Mirabile e Rosalia Manosperti. Avete un bambino che sta per nascere e dategli tanto amore, non sentitevi in colpa. Queste le parole pronunciate da padre Luciano Ficano durante la sua omelia. Ed ora invece c'è una notizia da Lentini, continuiamo a parlare di cronaca. A Lentini la polizia ha arrestato uno spacciatore. Agenti del commissariato di Lentini hanno arrestato un giovane di 24 anni già noto alle forze dell'ordine per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti hanno effettuato una perquisizione nei pressi dell'abitazione dell'arrestato notando il giovane uscire e alla vista degli operatori lanciare un sacchetto sotto la propria auto lì parcheggiata per poi allontanarsi velocemente al fine di eludere il controllo. Il tentativo di fuga del 24enne è risultato vano poiché è stato prontamente bloccato dagli agenti che hanno recuperato il sacchetto contenente circa 34 grammi di cocaina in pietra. Nell'abitazione del giovane sono stati rinvenuti 13 grammi di marijuana oltre a due bilancini di precisione e un rotolo di pellicola trasparente necessari per il confezionamento dello stupefacente. Dopo le formalità di rito l'arrestato è stato posto ai domiciliari. Nel corso dei servizi di controllo effettuati con i cinofili inoltre all'interno di un'abitazione abbandonata e con il portone spalancato sono state rinvenute due sacche da spalla contenenti munizioni di vario calibro anche da guerra. Il materiale è stato posto sotto sequestro a carico di ignoti. I carabinieri della stazione di Priolo Gargallo, supportati da unità cinofile del nucleo di Nicolosi, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dello spaccio di stupefacenti, hanno arrestato in flagranza un 24enne di cassibile gravato da numerosi precedenti per reati in materia di droga. Il pusher ha capito di non avere scampo quando ha visto il cane antidroga Ivan dirigersi verso un piccolo scomparto ricavato accanto al contatore dell'elettricità, dove i militari hanno rinvenuto e ovviamente sequestrato quattro buste contenenti 21 grammi di cocaina. I finanzieri di Palermo hanno invece arrestato due corrieri della droga. Tutti i dettagli nel nostro servizio. I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato due corrieri della droga e sequestrato circa 10 chili di hashish nascosta in un'autovettura bloccata sull'autostrada Palermo-Messina nei pressi dello svincolo di Buonfornello. Gli arrestati sono un 22enne e un 26enne entrambi di Mazzara del Vallo. Le indagini sono coordinate dalla procura di termini merese. Una pattuglia del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo ha bloccato l'auto e individuato lo stupefacente. I militari, grazie al fiuto del cane antidroga Jayaz, hanno trovato 20 involucri di plastica trasparente suddivisi in 5 panetti avvolti da nastro di imballaggio e con adesivo nero, nascosti in un vano nella portiera posteriore sinistra dell'auto. Lo stupefacente, immesso sul mercato, avrebbe fruttato al dettaglio oltre 14 mila euro. Uno dei due corrieri percepisce il reddito di cittadinanza, beneficio che per effetto del provvedimento cautelare verrà immediatamente sospeso come previsto dalla legge. Restiamo in tema, un arresto anche a Enna dove un 47enne è finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio e di contrasto al mercato illecito degli stupefacenti disposti dal questore, i poliziotti della squadra mobile di Enna e del commissariato di Piazza Armerina hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 47 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di perquisizione personale e domiciliare, il 47enne è stato trovato in possesso di 55 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento della droga in dosi, tre bilancini elettronici e una sorta di libro mastro con annotati nomi e cifre palesemente riconducibili a clienti che avevano acquistato lo stupefacente con l'impegno a corrispondere successivamente il dovuto. Dopo l'arresto, l'indagato è stato sottoposto ai domiciliari su disposizioni della procura della Repubblica di Enna. Parliamo di migranti, 144 persone sono approdate nella notte a Lampedusa con nove diversi barchini. I migranti sono stati trasferiti nell'hotspot di Contrada in Briacola dove c'erano già 165 ospiti. Il totale dunque, alla luce degli ultimi sbarchi, sale a 309 persone ospitate all'interno della struttura. Fra i migranti sbarcati nella notte, soccorsi dalle motovedette della Guardia di Finanza e della Capitaneria, ci sono anche donne e bambini. Un'emergenza, quella relativa ai migranti che non riguarda soltanto Lampedusa ma anche Pantellerie, lo ha detto lo stesso presidente della regione siciliana, Nello Musumeci. Il centro di prima accoglienza di Pantelleria è sopraffollato dopo gli ultimi sbarchi e alcuni migranti risulterebbero pure positivi al Covid, ha dichiarato il governatore. La vigilanza e il mantenimento dell'ordine pubblico sono affidati ai carabinieri e ai militari della Guardia di Finanza, normalmente in servizio sull'isola, che devono continuare però a occuparsi anche di altro. La prefettura fa tutto il possibile ma servono iniziative di governo. Mi appello al ministro dell'interno Lamorgese, ha affermato Musumeci, affinché anche in quest'isola possa essere destinato un reparto mobile della polizia, come avviene all'hotspot di Lampedusa. Anche a Pantelleria si vive sul fronte migranti una situazione critica e di disagio. Roma, conclude il presidente, deve dare risposte anche a quest'altro avamposto dell'Italia nel Mediterraneo. Ancora cronaca con una notizia da Lampedusa, in questo caso non riguarda i migranti. I carabinieri del Centro Anticrimine Natura del Comando Provinciale di Agrigento, unitamente ai colleghi della stazione di Lampedusa, hanno sequestrato un'area di 850 metri quadrati, a Lampedusa appunto, trasformata in discarica abusiva. Sul posto, un terreno di proprietà di una ditta locale, sono stati ritrovati rifiuti derivanti principalmente da attività edilizie di demolizione depositati senza autorizzazione. I carabinieri hanno quindi proceduto al sequestro temporaneo dell'area. Ed ora invece ci spostiamo virtualmente a Catania, dove sono stati arrestati tre ladri che hanno cercato di rubare un'auto. I carabinieri della squadra Lupi del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno arrestato tre catanesi di 31, 38 e 43 anni in quanto gravemente indiziati di tentato furto aggravato. Due equipaggi dei Lupi hanno notato nel quartiere di Picanello il 43enne, il quale avendoli notati si è avvicinato con una malcelata nonchalance a un'auto dando l'allarme al complice 31enne, anche egli noto ai militari, che era invece in quel momento intento ad armeggiare all'interno del vano motore dell'autovettura. I due si sono quindi dati alla fuga in diverse direzioni, con il 31enne che è riuscito a salire a bordo di un mezzo di proprietà della propria convivente, condotto dal terzo complice 38enne. Ne è scaturito un rocambolesco inseguimento, al termine del quale i militari hanno bloccato l'auto dei fuggitivi in via Duca degli Abruzzi. All'interno della vettura i carabinieri hanno trovato un borsello contenente documenti di identità, la carta precettiva della misura di sorveglianza del 43enne, nonché un martello frangivetro e una nutrita collezione di utensili. Lo stesso 43enne successivamente, per cercare di alleviare i suoi ormai inevitabili ulteriori guai giudiziari, si è spontaneamente presentato presso la caserma di Piazza Verga, accompagnato dal proprio legale di fiducia. La visione del filmato di un impianto di videosorveglianza della zona ha rilevato che il trio era dapprima transitato in via Vezzosi adocchiando l'auto da rubare, quindi due di essi si sono avvicinate all'autovettura sfondando nel finestrino anteriore lato guida, attivandosi poi nella manomissione dell'impianto elettrico fino all'inaspettato arrivo dei carabinieri. Dopo l'arresto i tre sono stati associati al carcere di Caltagirone. Ed ora parliamo di mafia. A Palermo ha inflitto un altro durissimo colpo al mandamento mafioso di Porta Nuova con 12 arresti. La direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Palermo ha delegato ai carabinieri l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale del Capoluogo nei confronti di 12 indagati, 4 in carcere e 8 agli arresti domiciliari ritenuti a vario titolo responsabili di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, coltivazione e spaccio di droga, violenza privata e lesioni personali aggravate dal metodo e dalle finalità mafiose. L'operazione denominata Vento 2 rappresenta l'immediata prosecuzione dell'operazione Vento conclusa lo scorso 6 luglio attraverso l'esecuzione di 18 fermi di indiziato di delitto emessi a carico di altrettanti soggetti gravemente indiziati di essere cati e sodali del mandamento mafioso di Palermo Porta Nuova. L'operazione Vento aveva subito un'accelerazione nella fase esecutiva in quanto, a seguito dell'omicidio di Giuseppe Incontrera, commesso lo scorso 30 giugno a Palermo e per cui è indagato Salvatore Fernandez erano emersi chiari segnali di una possibile escalation di violenze. Anche per il presente segmento d'indagine il nucleo investigativo di Palermo ha raccolto ulteriori e chiari segnali di recrudescenza violenta connessa con alcune tensioni in atto all'interno del mandamento di Porta Nuova. Tali evenienze hanno consentito al GIP di emettere le misure cautelari odierne che hanno evitato tra l'altro la scarcerazione dell'indagato Filippo Burgio, detenuto per altra causa e per associazione mafiosa, il quale avrebbe dovuto riacquisire la libertà proprio oggi e che, come emesso dalle indagini, aveva manifestato intenti di punizione per i soggetti da lui ritenuti corresponsabili dell'omicidio del figlio Emanuele, avvenuto il 31 maggio 2021 a Palermo nel popolare quartiere della Vuciria. In generale le indagini del nucleo investigativo di Palermo hanno integrato quelle già emerse nella prima fase dell'operazione e hanno permesso di ipotizzare, a carico degli indagati, gravi indizi in ordine ai delitti di partecipazione all'associazione mafiosa operante nel mandamento di Palermo Porta Nuova, violenza privata e lesioni personali aggravate dal metodo e dalle finalità mafiose, coltivazione e spaccio di stupefacenti, associazione finalizzata al traffico di droga gestita in tutta la sua filiera dai vertici della struttura criminale per alimentare le casse mafiose. L'associazione avrebbe assunto la gestione diretta di sei piazze di spaccio localizzate nei centralissimi quartieri del Capo, della Vuciria, di Ballarò e della Zisa, tutte capeggiate da elementi gravemente indiziati di appartenere a Cosa Nostra. Chiudiamo questa edizione di Spazio Notizia ma ci ritroviamo più tardi come sempre su Sicilia 24. Grazie. Grazie.